Un po' di sofferenza nel secondo tempo, secondo me è un risultato che ci sta un pochino stretto Visti gli avversari, però peccato, l'1-1 ci sta, forse ha tirato fuori qualche cartellino in più, però diciamo che va bene così Innanzitutto ringrazio i tifosi perché anche oggi si è visto un atteggiamento positivo Per quanto riguarda la situazione societaria, stiamo trattando con alcune persone Ci auguriamo che si concretizzino nel più breve tempo possibile Di Savone non, diciamo che con l'azionerato popolare non è che si risolva la situazione A noi interessa comunque vedere, ci piacerebbe avere delle persone che comunque dimostrano l'attaccamento alla società Quattesi possibile, è una cosa che stiamo mettendo in piedi Adesso poi vedremo con i legali e con i commercialisti come saranno poi i metodi per poterlo fare Niente, in questo momento ci aspettiamo che comunque anche la parte politica rispetti le promesse Che sono state fatte anche in questo ultimo periodo Vorremmo vedere un segnale forte anche da parte loro Domani inizieremo a raccogliere le firme anche per vedere se ci sono le condizioni per poterlo fare Dipenderà anche dai numeri delle persone che intendono aderire a questa azionerata popolare Poi come dicevo prima bisogna vedere da un punto di vista legale, da un punto di vista societario come si può mettere su Grazie a tutti